La matematica direi che è difficile e l'insegnamento della matematica è difficile. In particolare l'ambiente numeri, si può chiamare numeri, oppure si può dire l'aritmetica, oppure si può dire l'aritmetica algebra, ecco, è un settore che ci mette veramente in crisi, perché una volta si spiegava, si insegnava, gli alunni facevano gli esercizi, chi non andava bene poi prendeva lezioni, faceva ulteriori esercizi e poi più o meno il mondo andava avanti. Ecco, oggi è tutto più difficile, è tutto più complicato. In particolare, si è visto che non bastano queste tecniche, queste tecniche delle operazioni, queste tecniche delle equazioni, si è visto che a lungo andare non lasciano delle competenze, delle conoscenze sufficienti. E quindi, diciamo, è veramente una sfida oggi insegnare in maniera efficace questi argomenti. E noi cercheremo di aiutare gli insegnanti in questa mission impossible.